Ma dimmi un po', conosci i tre DA, i tre fratellini? No? E mo ti presento. Partiamo dal DA sempliciotto, senza grilli per la testa, più che grilli, senza accenti per la testa. Bella questa. Che è una preposizione semplice. Stasera andrò a mangiare DA, IL DA, DA, IL DA. Poi, poi, viene il DA con il cappellino, che sarebbe l'accento grave, grave, mi raccomando, ve lo scrivo qua, che è la terza persona singolare del presente indicativo del verbo dare, che possiamo usare in frasi come questa. Antonio dà sempre una mano a tutti, dà sempre una mano a tutti. Che bravo Antonio! L'ultimo DA, invece, è l'imperativo del verbo dare, e per esprimere un ordine, un comando, una preghiera, deve avere vicino a sé l'apostrofo, altrimenti non funziona. È quella la sua bacchetta magica. E lo usavano, lo usano, i nostri cari genitori. Carmela, dà una mano a tuo fratello. Oppure Ludovico, dà una mano a tua sorella.